La Madonna col bambino in trono tra i Santi Caterina d'Alessandria e Giovanni Evangelista è il soggetto del dipinto di cui voglio ora parlare, realizzato a tempera su tela dal pittore Pietro di Giovanni Lianori nel 1412 a prestar fede alla firma e alla data presenti alla base del trono su cui siede la Vergine. Si tratta certamente del dipinto più antico tra quelli conservati nel territorio di Castenaso all'interno di una chiesa parrocchiale e fu esposto e restaurato in occasione della mostra sul tramonto del Medioevo a Bologna e il cantiere di San Petronio nel 1987, di cui questo è il catalogo. L'opera in origine si trovava nell'oratorio della Gatta, l'oratorio era ubicato tra Castenaso e Budrio sulla sponda destra del torrente Idice e durante il secondo conflitto mondiale venne gravemente danneggiato al punto che l'opera si vide necessario trasferirla alla chiesa parrocchiale di San Pietro di Fiesso, dove tuttora si trova. Ne intendo parlare perché l'oratorio viene fatto oggetto di una particolare devozione l'indomani della grande pestilenza del 1630, quando il giorno della Natività della Vergine, l'8 di settembre, viene tenuto a ogni anno una processione dalla chiesa parrocchiale di Fiesso appunto a questo oratorio. E mi piace ricordare che mentre a Bologna Guidoreni si metteva all'opera dipingendo il celebre Paglione della Peste, oggi in Pinacoteca, a Fiesso appunto una piccola comunità si organizzava con gli unici strumenti che aveva insomma per scongiurare l'eventuale ritorno di un'epidemia, cioè la fede. Ecco, non è mia intenzione ovviamente scadere nella facile retorica, ma vorrei stimolare una riflessione, ossia che quando avremo superato questa triste pagina della nostra vita, sarebbe bello che si riscoprissero le nostre radici fatte appunto di opere d'arte apparentemente minori, certamente più nascoste rispetto alle più importanti sedi museali, però in grado di dare un senso profondo alla nostra storia, al nostro esserci e impongono di raccontarci alle generazioni future.